Sono le 7 e un minuto di venerdì 26 agosto 2022 e questa è la rassegna stampa di Fano TV. Bentrovati amici per guardare insieme le notizie del giorno con il Corriere Adriatico e il resto del Carlino per quanto riguarda le pagine locali. Iniziamo subito il nostro colloquio con l'almanacco e vedere qual è il santo del giorno. Troviamo un santo italiano, possiamo definirlo così anche se ai suoi tempi l'Italia ancora non esisteva. Si tratta di Alessandro di Bergamo. Alessandro visse nel III secolo, fece parte della legione tebana, una legione che Roma aveva costituito reclutando i tebani, ovvero gli egiziani. Ma siamo già nel III secolo, il cristianesimo si era un po' affermato anche nelle regioni dell'Africa settentrionale e quando l'imperatore Massimiano ordinò che i soldati sacrificassero appunto agli dèi prima di una battaglia contro i ribelli delle valli svizzere, ebbene la legione tebana disse di no. Sant'Alessandro faceva parte di questa legione e molti furono decimati, furono uccisi appunto per il rifiuto nei confronti dell'ordine dell'imperatore. Massimiano però non si trovava in quel momento sul posto, era altrove, ma però fu in seguito lui stesso martirizzato mentre si trovava a Bergamo. Ecco perché Sant'Alessandro è un patrono di questa città, Sant'Alessandro di Bergamo. E veniamo alle previsioni del tempo, c'è poco da dire rispetto a ieri. Sole, ancora sole su tutta la regione. Una giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature sono in lieve aumento, raggiungeranno i 31-32 gradi per quanto riguarda la massima e si attesterà sui 21 gradi per quanto riguarda la minima, ma questa l'abbiamo già lasciata nelle prime ore della mattinata. I venti ispireranno da una direzione di nord-nord-ovest sulla costa e di nord-nord-est sull'entroterra. Bene ciò detto, passiamo subito alla lettura dei giornali, a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo come il giornale accentri l'attenzione su un progetto che è rimasto al palo. Sembra un po' strano, ci sono diversi progetti purtroppo che non riescono a raggiungere o l'inaugurazione, quindi la fine del progetto stesso, oppure la fase esecutiva. Uno di questi per esempio, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è la caserma dei vigili del fuoco, la cui ditta, quella che aveva vinto l'appalto, ha rinunciato ai lavori ed ora si ricomincia da capo. Ma in questo caso si parla del Marine Center che rimane al palo perché? Perché l'ARPAM ha bloccato l'acquario, ovvero ha bloccato gli scarichi delle vasche in mare, insomma è acqua di mare e dovrebbe tornare in mare, però insomma ci sono problemi di carattere igienico e quindi occorre rimettere a posto, secondo le indicazioni dell'ARPAM, questo sistema di deflusso. Non sono pochi i cronoprogrammi dei lavori pubblici che si arrestano e questo è uno di questi. Non c'è probabilmente grande colpa dell'amministrazione comunale, in questo caso però insomma si procede a rilento perché il Marine Center avrebbe dovuto almeno inaugurare l'acquario all'inizio dell'estate per costituire un nuovo centro di attrazione a livello turistico nel nostro territorio. Ebbè si dovrà aspettare l'autunno e speriamo che almeno le scuole possano visitare questo nuovo centro, un nuovo centro con otto vasche, bellissimo, forse più bello di quello precedente dove viene ricostituita la vita del mare adriatico. Sicurezza sul lavoro, nessun escluso, anche sul grattacielo. È un articolo a fondo pagina del Corriere Adriatico che riguarda il concorso Carton Sea, un concorso di grafica umoristica che viene così organizzato ogni anno appunto da Carton Sea, una ditta che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stata appunto presentata. Sono 111 partecipanti di quest'anno una organizzazione, un'iniziativa che si afferma sempre più non solo a livello locale ma a livello soprattutto nazionale. E poi l'altra notizia del giorno, quella della presentazione del Brodetto Fest, il Festival del Brodetto, una delle iniziative più importanti che si svolgono sul fronte dell'agroalimentare a Fano. La manifestazione si svolgerà dal 9 all'11 settembre prossimo ed è stata presentata ieri in uno dei quadri che si trovano sul molo diponente del Lido di Fano. 20 anni, è la ventesima edizione questa che si svolge, una edizione che si è così, che si è adeguata al mutare dei tempi. Lo ha detto chiaramente il Presidente della Confessor Centi che è l'organizzazione di categoria che si occupa di questa manifestazione e lo ha detto chiaramente Pier Stefano Fiorelli il quale ha evidenziato come l'evento ha contribuito all'allungamento della stagione turistica perché svolgendosi a settembre e quindi non in alta stagione contribuisce appunto ad attirare clienti, ad attirare turisti. E poi c'è stato un altro traguardo quello di essere riusciti a portare il menù del brodetto nei ristoranti che era praticamente scomparso in precedenza. E in più ancora sono stati così superati gli anni difficili della pandemia e quest'anno si ritornerà al Lido con il palco centrale in piazzale Seneca. Scusate, quindi tutte le manifestazioni con ospiti di riguardo. Ci sarà Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Vinicio Marchioni e Federico Quaranta che è una presenza stabile del festival che presenterà diverse iniziative. E poi abbiamo invece qua una denuncia, denuncia fatta dal capogruppo consigliare della Lega Gianluca Ilari. Che cosa ha scoperto Ilari? Ilari ha scoperto che il comune di Fano ha perso un contributo di 40 mila euro per l'acquisto di un pulmino refrigerato per la distribuzione degli alimenti alla Caritas, alle messe scolastiche, alle famiglie in difficoltà perché nel fare domanda per partecipare al bando ha dimenticato di allegare alcuni documenti, ha dimenticato il cronoprogramma e il quadro tecnico-economico come espressamente richiesto appunto dal bando emesso dalla Regione. Per cui molti altri comuni hanno ottenuto il finanziamento, per esempio il comune di Pesaro e altri comuni, il comune di Cagli, il comune di Belforte, Alisauro, solo per restare nella nostra provincia, mentre il comune di Fano è rimasto all'asciutto. Sogno d'amore e di vita lungo 50 anni, l'eccezionale avventura di Giraolomeoni verrà ripercorsa a Montebello alle 21.15 di questa sera con la presentazione del libro sulle pioniere del biologico dalla semina al cielo. Questa è la straordinaria trasformazione a cui si potrà assistere nell'ambito del festival di piazze questa sera alle 21.15 sulla collina di Isola del Piano dove ormai 50 anni fa nacque questa bella avventura di Gino Girolomoni, un nome che rimane nella storia del nostro territorio perché fu un pioniere dell'agricoltura biologica. Tradizioni, cibo e eronia, mezzo secolo di San Rocco all'isla, una calorosa e allegra serata a Isola di Fano tra piatti tipici e spettacolo esilerante. Insomma sono una delle manifestazioni che animerà questo scorso del mese di agosto. A San Lorenzo in campo poi invece c'è un altro festival, il Traffic Festival, un Traffic Festival che si occupa di scarsità idrica, arti visive, musica, laboratori da oggi a domenica a San Lorenzo e a Pergola improntate proprio su questo tema, sulla scarsità idrica. E poi vediamo anche la pagina di Senigallia dove si effettuano lavori urgenti per la rotonda resa più sicura. E poi c'è anche l'individuazione del fotografo che ha scattato quella fotografia degli sposi che il giorno delle nozze si sono fatti fotografare sul tetto della rotonda. Insomma ovviamente trasgredendo ai divieti di salire sul tetto è stato individuato il fotografo, ha detto il sindaco Olivetti e quindi saranno individuati anche gli sposi. Comunque lavori urgenti per ripristinare la sicurezza della rotonda mare dove è stato notato un guasto al sistema anti-intrusione e si è reso necessario anche riparare un infisso e quindi si corre ai ripari. Veniamo ora alle pagine regionali dove ovviamente si parlerà di elezioni sul Corriere Adriatico ma si parla di elezioni in un modo particolare ovvero non si parla oggi dei candidati al Parlamento ma si parla dei sostituti nella giunta regionale di coloro che si sono candidati alle elezioni del 25 settembre. Da Latisi ad Antonini è partito il toto Assessori per sostituire gli uscenti. Sono tre gli Assessori che hanno così manifestato la loro candidatura alle prossime elezioni sono Guido Castelli di Fratelli d'Italia, Mirko Carloni della Lega e Giorgia Latini sempre della Lega. E chi sono i candidati a queste poltrone ovvero quelli che dovrebbero entrare nella giunta regionale di Acquaroli. Ebbene per quanto riguarda Guido Castelli di Fratelli d'Italia sono in predicato Monica Acciarri e Andrea Antonini. Mentre per Mirko Carloni troviamo un nome noto soprattutto a Fano è quello di Luca Serfilippi. Soprattutto a Fano ma anche a livello provinciale perché Luca Serfilippi quando è stato eletto ha fatto incetta di preferenze veramente. Luca Serfilippi che è consigliere ma è anche segretario in quota della Lega con Daniela Tisi dirigente Cultura in Regione. E poi al posto di Giorgia Latini potrebbero concorrere Chiara Biondi consigliera regionale in quota Lega e Carlo Ciccioli che è il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia. Questi sono i nomi che si fanno per i sostituti in giunta regionale. Nell'altra pagina abbiamo un focus sull'assessora Latini candidata a macerata da Roma sarà ancora più utile. Sostenere la maternità e la vita ecco il compito delle istituzioni ha dichiarato. Ed ora vediamo un po' per quanto riguarda il primo piano di Pesaro. Acqua, la doccia va gelata. Il progetto è ammesso ma i soldi non bastano. Si parla di un piano di marche multiservizi ed è lato l'autorità d'ambito sulla riduzione delle perdite. Le perdite sappiamo in caso di siccità costituiscono un problema ancor più coccente rispetto ai tempi quando magari piove di più. Le perdite occorre contenerle per così fare tesoro di tutta la quantità d'acqua di cui disponiamo. Ebbene per ora il secondo non finanziato un progetto appunto per riparare le perdite. L'amministratore Tiviroli dice il lavoro è stato riconosciuto. Si tratta dei soldi del PNRR ma come dice il titolo non bastano. Il progetto di marche multiservizi per il pesarese ha un importo stratosferico di 27 milioni in 469 mila euro. finanziamento M ammesso è quello di 19 milioni. Quindi vedete la differenza tra 19 milioni e 27 milioni per quanto riguarda appunto questi lavori per riparare le perdite. Quasi un milione per le mura e col bordolo confida nel PNRR. A Vallefoglia si partecipa al bando per completare la ristrutturazione di questo reperto storico. Vediamo qui una fotografia con un tratto di mura di col bordolo. La Lega a Biagiotti non lo ha detto a nessuno. Ebbene sembra che la Lega si meravigli della decisione di Biagiotti che ha abbandonato il suo partito ed è entrato in maggioranza con Ricci. Poi dice la Lega abbiamo visto il suo nome con Di Maio. Il gruppo contro il consigliere fuoriuscito che ora corre per il Parlamento e assicura il sostegno alla maggioranza. Insomma c'è amarezza e meraviglia dei compagni di partito per la decisione di Biagiotti, consigliere comunale di Pesaro. E anche il Corriere Adriatico si occupa dei mosaici del Duomo e l'abbiamo visto ieri come questa grande risorsa di carattere archeologico venga valorizzata dal nuovo Vescovo Salvucci. Scadenza ravvicinata con la capitale della cultura, un'occasione appunto per valorizzare ulteriormente questo grande reperto archeologico e i comitati plaudono all'apertura dell'Arcivescovo. Il tesoro del Duomo, lo ripetiamo, si estende su circa 400 metri quadrati di tessere dal VI al XIII secolo, più 200 metri quadrati di porzioni lacunose nel primo livello, quello meglio studiato e conosciuto. Il vero mistero però è il mosaico sottostante, un pavimento di 600 metri quadrati del IV secolo. Siamo veramente ai primordi della fede cattolica, della religione cattolica che si è steso anche nel Piceno e quindi anche nel Pesarese. Da Caglia alla Francia, un groppo a un mulo, il nostro viaggio slov. È un'avventura, quella compiuta da Paolo Maffei e Giuseppe Rossi che hanno così percorso sentieri arcaici, misconosciuti, molto molto appartati con un muro a loro seguito. Ebbene, anche questo è un modo originale di viaggiare che ripercorre un antico modo, molto molto più ambientalista, molto molto più tranquillo, sereno e favorevole per ammirare paesaggi e essere in sintonia con la natura. Gas, luce, quante trappole nei contratti. Fate attenzione, in questi giorni molti contratti stanno scadendo e quindi c'è l'occasione di rinnovare. Ma attenzione alle truffe. Dagli utenti già due segnalazioni al giorno, lo dice la di Consum, che sta trattando denunce per truffa e comportamenti scorretti. Gli ultimi casi le firme pecche e fasulle. Quindi quando rinnovate i contratti guardate bene con chi lo fate, accertatevi delle condizioni e della regolarità del contratto e state attenti a cosa firmate. Magari leggete le carte senza firmarle ad occhi chiusi. E ancora vediamo la pagina di Urbino, dove anche qui c'è un addio ad una coalizione, è quella del vice sindaco Guidi, come abbiamo visto per Pesaro per quanto riguarda il consigliere della Lega che è entrato in maggioranza, addolorato dalla scelta di Guidi il sindaco Gambini. Gambini spiega la ragione della perdita di fiducia verso il suo vice che stamattina si dimette. È stato violato, ha detto, il patto di lealtà di giunta. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre la sua pagina di Fano su un primo consuntivo della fiera di San Bartolomeo e sembra che le cose non vadano bene. Una fiera in bianco e nero, venditori avviliti, tour tra le bancarelle. Meglio che non dica niente, ha detto un operatore. Tengo chiuso perché non c'è nessuno, ma alla sera gli affari vanno meglio. A dire la verità è difficile intervistando ambulanti, negozianti, commercianti che dicano che le cose vanno a gonfie vele, vanno bene. Da piangere c'è sempre qualcuno che ritrae il momento in maniera negativa. Però ovviamente il momento è difficile per tutti, è difficile per i negozianti, per i ambulanti che vedono aumentare il costo delle materie prime. Quindi sono costretti ad aumentare anche il prezzo dei loro prodotti e per le famiglie che hanno sempre meno risorse e quindi possono acquistare sempre meno. E quindi c'è una crisi che si concatena l'una con l'altra. Per quanto riguarda i commenti degli ambulanti che partecipano a questa grande iniziativa, circa 200 bancarelle si sono estese sul lungomare di Fano, si evidenzia come il trend delle vendite ha ingranato faticosamente durante la prima giornata, poi in serata, insomma, si è ottenuto un risultato soddisfacente, chiamiamolo così. Ieri le cose sono andate un po' meglio, oggi si tiene la terza giornata, l'ultima giornata della fiera di San Bartolomeo. E anche il resto del Carlino evidenzia il brodetto delizia del lungomare fanese. Questo piatto riscoperto della gastronomia marinara, quella vera, quella dei portolotti, quella che i pescatori usavano quando erano in mare per cucinare, tutto quello che avanzava dal pesce che poi veniva incassettato, quelle poche cose venivano appunto mangiate, ma con un profumo, con un sapore che è veramente sopraffino. Cultura e spettacolo accenderanno i riflettori del palco centrale a Lido per questa bella manifestazione che si evolverà dal 9 all'11 settembre prossimo a Fano. E qui abbiamo l'articolo che riguarda la perdita del contributo denunciato da Gianluca Ilari, lo vediamo qui nella fotografia, un'occasione persa per il comune di Fano che non avrà un pulmino refrigerato per la consegna degli alimenti. La curva per Bronco riunisce le tifoserie, l'iniziativa popolare che vuole intitolare quella parte del Mancini all'ultrasgranata. È stata accolta con entusiasmo da tutta la città. Una bella iniziativa questa sponsorizzata anche da Francesco Panaroni del Movimento 5 Stelle. Papa Elmo, lui era amico di tutti, riferendosi al figlio, la madre commossa da questa vicinanza. Il sindaco è dimostrazione dell'anima bella del tifo, non solo sportiva ma umana. È la proposta di tutte le tifoserie di intitolare la curva del Mancini a Bronco. Sarà certamente accolta dalla commissione toponomastica. E intanto lo stadio torna a splendere. Torna a splendere perché è stato effettuato un restyling per gli spalti e per la illuminazione. L'assessore Cristian Fanesi dice abbiamo coperto la tribuna centrale e ricostruito quella degli ospiti. Qui Fanesi viene identificato come assessore ai lavori pubblici. In realtà non è così. L'assessore ai lavori pubblici è Fabiola Tonelli. Ma Cristian Fanesi da vice sindaco si occupa anche di alcuni progetti importanti, tra cui anche la variante di Gimarra. Guidi, atto sleale. Io ho costretto a rimuoverlo. Anche il resto del calino si occupa della reazione del sindaco Gambini al passaggio alla scelta politica fatta da Guidi, il suo vice sindaco, che contrasta appunto con quella che caratterizza la giunta di Urbino. Apriamo il giornale del Carlino anche su Pesaro. Si parla di politica, ovviamente. Le prime pagine sono dedicate alle elezioni, lo saranno fino al 25 di settembre prossimo. PD senza parlamentari, la storia interrotta. Sì, perché per la prima volta il Partito Democratico pesarese non ha un suo candidato. Questo è un paracadutato, quello che dovrà votare questa volta. Da Adele Beia a Marcello Stefanini, da De Sabata a Volponi ed Emiliani, il 2022 segna un punto di clamorosa rottura con il passato. Evidenzia il resto del Carlino. Nel 1987 abbiamo i nomi di Marcello Stefanini, Giorgio Tornati e Paolo Volponi, vi ricordate? E poi ancora nel 92 Marcello Stefanini, Giorgio Londei. Nel 94 Palmi Rucchielli, Giorgio Londei. Nel 96 furono candidati Palmi Rucchielli, Pietro Natale, Gasperoni, Maria Lenti e Vittorio Emiliani. Ancora nel 2001 Pietro Natale, Gasperoni, Giuseppe Mascioni. Poi ancora nel 2006 Massimo Vannucci, Oriano Giovannelli e Fabrizio Morri. Nel 2008 ancora Massimo Vannucci, Oriano Giovannelli e Fabrizio Morri. I tre si ripeterono rispetto al 2006. Nel 2013 Alessia Morani, Marco Marchetti, Camilla Fabri. Nel 2018 Alessia Morani. Nel 2022 nessun candidato locale alle elezioni. Smontiamo il modello Marche della destra, ma qui i sondaggi affondano il centro-sinistra. Il PD e gli alleati di squadra cercano di così risalire la corrente per quanto riguarda il modello delle Marche, che viene magnificato dal centro-destra. Un modello che forse, anzi senza forse, ha perso parecchio rispetto al primato che aveva assunto negli anni passati, quando la piccola impresa, l'artigianato marchigiano, aveva assunto la qualità di un modello che veniva ammirato a livello nazionale e forse anche a livello internazionale. Ebbene nel collegio di Pesaro, secondo i dati che circolano tra i DEM, la distanza sarebbe salita addirittura del 9% con il centro-destra e quindi c'è molta strada da ripercorrere. Una reazione alle dichiarazioni della Ferragni in merito all'aborto che non si pratica nelle Marche viene fatta dal primario del reparto di ostetricia e ginecologia di Marche Nord, Carlo Ciccoli. La Ferragni trovi una donna che non abbia potuto abortire qui, dice il medico. Quel poste mi ha offeso perché ci ha dipinti come servi del sistema. Ebbene Claudio Ciccoli reagisce alle dichiarazioni della influencer e dice che per quanto riguarda l'uscita sui social della Ferragni sono totalmente sbigottito perché dimostra come sia talmente ignara di cosa avviene nell'interno degli ospedali marchigiani e in particolare nella struttura di Marche Nord. E parliamo del caro Bollette perché è un problema questo che intacca non solo le famiglie ma intacca anche le imprese in modo particolare il settore ricettivo, gli alberghi. D'inverno sarà difficile trovare un albergo in funzione perché pochi si permetteranno il lusso di accendere il riscaldamento e quindi di consumare metano che ha raggiunto quote alle stelle. Si è data l'addio a Vitiello, il preside visionario ipotizzò l'elezione del Papa a suo tempo prima che l'elezione avvenisse. E questa è l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Come sempre vi invito a seguire il Tg di Occhio alla Notizia di Fano TV per quanto riguarda le notizie del giorno. Questo per il momento è tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.